VAMOS ALLÁ CHICOS sai cosa ti dico? antes abbiamo detto ah mi resta l'ultima reaction no, teniamo caserna una massa so guys this is the real last reaction of the sunday e che andiamo a vedere? we're gonna see chichi255 come on chichi it's all yours ok, dualis oh senza protagonismo a cercare di colorare he starts without searching to be the center of attention coloring no problem man continue e Jaime e Jaime che dice male io che ero sempre nel centro dell'attenzione e lo voglio matare ma cici riparte oh 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 boh, hai visto? questi sono anche se li chiami piccoli player quelli che giocano, capito? chiaro wow 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 i real players the ones who understand what the game is about normally people call us little gamer but we are the sense of the game yeah grande cici colorare colorare dall'altra parte dall'altra parte ci sono anche tanti buoni buoni godi mi pare che sia anche il il nostro siio dall'altra parte gg is playing with really really strong players from our clan and also from other clans but he's unstoppable and right now it looks like the the zone is being dominated by their color si va colorea però non con exagerazione nel sentido cada angulo perfecto chiaro they are almost in their base wow they are close in their base so i think si the other ego is with him si 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 is in another team other team yeah no ok maybe one of them will try to exit on the other part e qui se facessero un buon gioco di squadra uno deve andare sopra esatto l'avrebbero chiuso si with a good team teamwork one of those of his team should have gone on the upper part then they would have closed them totally si but right now it doesn't look like they're being able to exit and then wow with the sniper grande però l'han serrato Sian si si l'han serrato los ultimo 20 segundos ok last 20 seconds of the match directly to the other base in order to avoid anyone to exit there but they did it i think the good thing of reaction is the other guys can watch herself is self in the other video sure that's true la cosa buena 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 es que se puede mirar como se juega en el video de los otros tambien porque se te esplato un monton de veces voy a ver el video donde he esplatado ese vez y han ganado mucho 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 and they did it they won good match vale good match